Il mare è qualcosa che non puoi fermare. Il suo interno è come una grande madre. Ogni onda è un messaggio che parte dal centro del mondo ed arriva sulle sponde della terra. Il mare è movimento, il continuo andare delle cose. Puoi provare ad arrestarlo, ma costruisci solo barricate contro l'impossibile.